ben tornati da andrea in qua in gruppo ghinzani spoticar bergamo buona estate a tutti innanzitutto andrea ciao a tutti sono lara siamo qua ancora per presentarvi e tantissime novità tantissime novità arrivate giusto giusto per questa questa estate 2023 abbiamo tantissime opportunità chilometro zero e aziendali che adesso andiamo velocemente senza stancarvi velocemente a elencar facciamo vedere uno per uno tutte le nostre opportunità iniziamo subito con questa magnifica renault capture intensive hybrid plugin una vettura ibrida con auto rigenerazione e con la possibilità di ricaricarla a casa direttamente con la nostra presa elettrica parliamo di una vettura completissima l'allestimento intensive infatti prevede cerchi lega navigatore telecamere sensori anteriori e posteriori fare a led cruise control adattivo sistemi di sicurezza con anti collisione ne abbiamo tantissime disponibili con varie colorazioni dal grigio al nero al blu tutte disponibili in pronta consegna importantissimo sono vetture in pronta consegna immatricolate nel 2021 con un chilometraggio dai 10 ai 20 mila chilometri tutte aziendali renault sono vetture che partono da un prezzo di 26 mila 900 euro e potete visionarle tutte sul nostro sito internet ve lo ricordo gruppo ghinzani.it www.gruppo ghinzani.it nell'area spoticar tutte queste splendide auto che andremo a vedere oggi sono tutte elencate nel dettaglio con le varie offerte finanziarie disponibili continuiamo il percorso delle nostre opportunità con questa magnifica citroen c3 1200 shine 83 cavalli abbiamo tantissime disponibilità di colori per questa vettura e queste vetture che sono arrivate questa settimana qua da noi in salone sono tutte auto disponibili in consegna nel giro di tre settimane il tempo della rimatricolazione italiana sono auto certificate da citroen sono auto che non superano i 10 mila chilometri l'allestimento shine velocemente prevede un po tutto molto completo parliamo di fare a led sensori anteriori posteriori parliamo di telecamera clima automatico cruise control sistemi di sicurezza attivi sono auto che partono da un prezzo di 17 mila e 900 euro anche queste come le capture che abbiamo appena visto tutte visionabili sul nostro sito e anche per queste abbiamo delle soluzioni finanziarie esclusive che possiamo tranquillamente farvi vedere illustrarvi direttamente noi oppure potete visionare anche direttamente personalmente sul nostro sito toyota yari cybride un'altra vettura ibrida disponibile qua da noi in pronta consegna a bergamo in spotty car bergamo per questa vettura direi di far parlare le immagini più che le parole è un'auto esclusiva veramente unica introvabile noi l'abbiamo qua in pronta consegna lara è già salita sopra e pronta a partire non vi dico niente di quest'auto andate sul nostro sito lo ripeto e potete vedere tutte le caratteristiche il prezzo esclusivo che abbiamo riservato per quest'auto peggio 208 la mitica peggio 208 quanto è bella questa macchina e quante ne stiamo vendendo peggio 208 mille due benzina 100 cavalli automatica in pronta consegna allestimento all'urpac allestimento unico esclusivo dell'auto cerchi lega navigatore telecamere fari a led clima automatico insomma una vettura veramente più che completa le abbiamo due ancora disponibili nello stesso colore giallo faro hanno entrambe sui 18 20 mila chilometri sono auto come ripeto in pronta consegna il tempo giusto il tempo di immatricolarle finanziabili anche interamente avete capito bene potete finanziarle interamente non richiediamo un anticipo per quest'auto e abbiamo una proposta esclusiva con delle mini rate che vi possono garantire l'opportunità di poter acquistare questa vettura senza un diciamo una rata invasiva parliamo di un'auto molto semplice parliamo della semplicità di questa della guida di questa vettura dell'acquisto di questa vettura con il nostro finanziamento senza pensieri che trovate sempre sul nostro sito oppure abbiamo i nostri consulenti dedicati che possono prepararvi un'offerta sicuramente vantaggiosa e sicuramente idonea alle vostre esigenze personali citroen c5 aircross la migliore auto per le nostre vacanze confort spazio l'ara bellissima questa macchina cambia automatico tutto a chilometro zero allestimento shine motore 1500 30 cavalli diesel un'auto che fa veramente è un piacere guidarla no è un piacere vederla un piacere guidarla è un piacere il suo la sua particolarità il suo consumo parliamo di una vettura che fa oltre i 20 chilometri al litro di media disponibili in pronta consegna le ultime sono rimaste 4 5 lara le ultime si sono rimaste pochissime tutte a chilometro zero tutte immatricolate fine 2022 partiamo da un prezzo fortissimo aggressivo di 33.900 euro se finanziate l'acquisto qua da noi sono tutte ripeto auto disponibili in pronta consegna ve la possiamo consegnare prima della partenza per le nostre vacanze d'agosto se la nostra scelta è di guidare un magnifico SUV ma con una motorizzazione benzina anche qui abbiamo la soluzione giusta per voi e parliamo di queste 3.800 1.230 cavalli cambio manuale in questo caso sono tutte auto sempre disponibili in pronta consegna lo specifico e lo ripeto anche qua abbiamo tante opportunità con diversi colori tutti in allestimento all'ur sono vetture aziendali del 2021 2022 hanno un chilometraggio medio intorno ai 30 mila chilometri sono tutte vetture ufficiali tagliandate revisionate controllate da noi come gruppo spoticar allestimento all'ur lo sappiamo bene lo ripeto è un allestimento più che completo cerchi lega sensori telecamere abbiamo il clima chiaramente automatico navigatore connessione dati con i vostri sistemi operativi sistemi di sicurezza insomma chi più ne ha più ne metta sono auto anche queste visionabili lo ripeto sempre sul nostro sito partiamo da un prezzo di 25.900 euro non fatevele scappare perché il prezzo è veramente forte anche per in questo caso parliamo di finanziamenti anche senza anticipo anticipo zero con rate a partire da 200 euro al mese ma poi ecco nello specifico ci sono i nostri consulenti per formularvi l'offerta a voi dedicata come un sarto andiamo a cucirla su misura per le vostre esigenze e per i neopatentati non ci siamo dimenticati di voi abbiamo queste magnifiche for fiesta le abbiamo appena comprate sono appena arrivati qua da noi in sede sono tutte versioni titanium quindi completissimi con ogni richiesta sono auto aziendali del 2021 media chilometraggio intorno ai 40.000 chilometri a un prezzo di partenza di 15.900 euro idonee per i neopatentati chiaramente ma non solo direi che è una vettura che può essere utilizzata per tutti i giorni ha degli ottimi spazi ma non perché no anche per un bel un bel viaggio con le sue grandi capacità di carico allestimento titanium quindi parliamo di cerchi in lega fendinebbia monitor touch navigatore climatizzatore automatico cerchi in lega tutte vetture preparate ricondizionate da noi con 12 mesi di garanzia finanziabili interamente lo ripeto magari sarete stanchi di sentirmi ma lo ripeto finanziabili senza anticipo e con comode rate mensili guardatele visionatele sul nostro sito e passate a trovarci qua da noi in sede a bergamo tante sono anche le opportunità dei veicoli commerciali presente qua da noi a bergamo in via zanica in spoty car bergamo partiamo da questo rifter n1 chilometro zero motore 1500 diesel 100 cavalli vettura n1 5 posti omologata quindi 5 posti è un'auto disponibile sempre in pronta consegna varie colorazioni tutte chilometro zero tutto a partire da un'offerta esclusiva di 31.900 euro anche lei finanziabile oppure con opportunità di leasing dedicate sempre con i nostri consulenti qua disponibile a illustrarvele oltre al rifter che vediamo qua abbiamo una serie di veicoli commerciali da partire dal berlingo van due posti qui ne abbiamo ancora un paio disponibili sempre chilometro zero renault express 1500 diesel chilometro zero anche questo disponibile in pronta consegna due posti con un'ottima capacità di carico è un prezzo super esclusivo andate sul sito visionatelo guardatelo perché l'ultima disponibile in pronta consegna e poi una serie di veicoli anche qui n1 sempre cinque posti di fiat fiat doblò qui il prezzo parte da 28.900 euro e veicoli in multispazio ne abbiamo io direi di sì partiamo da questo opel combo 1.2 benzina 130 cavalli magnifico è una vettura con cambio automatico cinque posti aziendale del 2022 chilometraggio intorno ai 30.000 sono auto disponibili sempre in pronta consegna partono da un'offerta speciale dedicata di 31.900 euro oltre a questa abbiamo ancora un sito in berlingo e dei ford connect courier appena arrivati a chilometro zero del 2023 sette posti sono tutte auto che partono una cifra intorno ai 34 35 mila euro tutti finanziabili e pronti per essere consegnati per le vostre vacanze passiamo a una delle nostre vetture certificate dal nostro brand spoticar bergamo dal nostro gruppo è una permuta un'auto ritirata da un nostro cliente che noi controlliamo certifichiamo verifichiamo e tagli andiamo prima della consegna vettura che ha circa 55 mila chilometri unico proprietario con cerchi lega sistema chiaramente di controllo di stabilità antico collisione sensori di parcheggio clima automatico alle gomme quattro stagioni e il grip control per aiutarci nelle manovre magari durante il periodo invernale so che non è il momento però dobbiamo pensare anche alla prossima stagione che arriverà l'auto è disponibile in pronta consegna del 2019 prezzo esclusivo 17.900 euro chiaramente quelle che abbiamo appena visto insieme sono solo una briciola delle tante opportunità che abbiamo qua da noi in gruppo ghinzani a bergamo dove lara siamo in via zanica 58 h potete trovarci in maniera molto semplice uscendo dal casello dell'autostrada siamo proprio qui attaccati all'uscita del casello dell'autostrada ricordo che la nostra serie spoticar non è presente solo in bergamo è presente anche nella provincia di bergamo l'altra sede a calusco dadda nella zona vicino alla brianza tantissime ripeto le opportunità del gruppo psa peugeot citroen opel ma non solo come abbiamo appena visto spaziamo anche negli altri marchi reno toyota ford e tantissime opportunità in fca con delle lance y chilometro zero delle 500 chilometro zero che stanno arrivando ma adesso direi che vi lasciamo per ora abbiamo terminato la nostra chiacchierata nostra presentazione una buona estate tutti da andrea e vi aspettiamo ciao a tutti